Ciao amici di Insieme in Cucina.it Oggi per la rossicceria siciliana faremo canzoni dritti in libro. Gli ingredienti sono Impasto per rossicceria prosciutto, mozzarella, pizza, 1 litro di rizzi, le pezzature sono 30 grammi. In alto trovate il link per la ricetta delle pasta. Adesso facciamo il calzone fritto miglio. Aggiungiamo la pasta. Aggiungiamo la pasta. Aggiungiamo il pezzotto. La mozzarella per pizza. Bagniamo i porbi con l'acqua e chiudiamo. Manchiamo bene i porbi. Lo facciamo di evitare per un'oretta. È passata un'ora. Friggiamo i nostri calzoni mignon. Aggiungiamo la pasta. Appena sono ben dorati possiamo uscire. Aggiungiamo la pasta. I calzoni fritti miglio sono 12. Di sedice troverete alcuni link per fare altri pezzi di rossicceria siciliana. Aggiungiamo la pasta. Una grande e grande.